Immaginate di trascorrere le vostre vacanze in un osi di benessere e tranquillità. Siamo a uno dei borghi più belli d'Italia. Vi presentiamo in vendita una soluzione indipendente. Da questa parte trovate una casa di circa 80 metri quadri, un lotto di terreno di circa 2000 metri quadri con una caratteristica a pagliare a quelle mie spalle che impreziosisce la proprietà. Venite a trovarci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.